Sono sul set di Vagina Academy e sto andando a fare le mie compagnie delle domande sul sesso Andiamo Allora siamo qui con Sofia Allora Sofì, hai mai provato dolore durante un rapporto sessuale? Sni, ma in realtà è anche piacevole Ah, ok Va benissimo questa risposta Siamo qui con Giada Allora Giada, ho una domanda per te Hai mai contratto infezioni o avuto problemi dopo un rapporto sessuale? Sì, dopo un rapporto sessuale Dite ai vostri tipi di farsi l'ibidea Siamo qui con Emma Galeotti Emma, hai mai utilizzato sex toys e se sì, come ti sei trovata? No Bene Ok, perfetto Siamo qui con Martina Teneralli Allora Marti, quando fai sesso, anche col tuo partner solito, usi le precauzioni? Assolutamente sì, sempre perché sono terrorizzata, paranoica Quindi sempre Questa era la risposta esatta da dare Siamo qui con Cassie Melli Ragazze, com'è stata la vostra prima volta e ve la siete raccontata, ve la siete tenuta per voi? Allora in realtà io l'ho raccontata bene alle mie amiche A mia sorella un po' di meno perché voce, con l'imbarazzo Io di conseguenza in realtà l'ho raccontata dopo un po' a mia sorella perché non voleva ascoltarmi Nulla, anche la mia prima volta non è andata male Siamo qui con Sharon Sharon, tu senti che crescendo il modo di fare sesso è cambiato con te o è rimasto uguale? E con questo intendo tipo che sei più consapevole di quello che vuoi, ti senti più sicura e tutte queste cose? Sì, sono più sicura di quello che voglio e soprattutto ho imparato ad avere esperienze che io magari prima pensavo fossero tabù Adesso mi sono lanciata e invece è stupendo Sì, sono più sicura di quello che vuoi, ti senti più sicura di quello che vuoi, ti senti più sicura di quello che vuoi? Sì, sono più sicura di tutto